Arquiri ha servito il Paese e mi sembra che lo abbia fatto anche in maniera abbastanza importante e giusta. Poi il Presidente del Consiglio Gradi adesso è assolutamente legittimato e ne ha tutte le carte regole che poter costituire. Non crede che il lavoro che ha svolto debba continuare a svolgere. Quindi va bene così, noi continuiamo. L'importante è sconfiggere il Covid e portare il Paese fuori dalla crisi economica. Questo è l'imperativo che abbiamo come governo e lo dobbiamo portare avanti. Non c'è certamente una battaglia di nomi, non ci interessa. Oggi la squadra è unita. Però se questo ha vinto la battaglia della Liga? Ma io non sono per una né per un'altra bandiera, non mi interessa. Se il Presidente del Draghi ha preso un'illusione, per non ripetere, è evidente l'Italia, sono buone motivazioni.